MEI MEI CUM MARTES MARTES TAMBUS CONTICI MAI INAN OSFII LUSIANO LUSIANO TAMBUS CONTICI MAI INAN CHIANGO DO DIN DECOR LUTELLANTE CHI INANAN E' VALLA DEL RESULTATO CABEZA INANAN E' NANAN PELLE GROSSO COOL 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 IN DECOR COOL NADO IN 37 MINUTE ECHIPO DIN DECOR Piccadilanti 1-0 con la lotta per Liomar Valentina, in the court 1, John Colombia 0, peligroso, Liomar Cabezzà lo fuori al canse.